Il giorno seguente a questa nottata, il quarto giorno dell'ottantasettesima conferenza degli uomini e allo stesso tempo della prima ed ultima conferenza degli animali, rimarrà per sempre nei libri di storia come il giorno del grande spavento dell'umanità. E chi l'ha vissuto non potrà mai più scordarselo. Che cosa accade? Eh, non si ha quasi il coraggio di dirlo. I bambini erano scomparsi. Tutti i bambini, di tutti gli uomini, erano spariti. I neonati non dormivano più nelle culle, i lettini erano tutti vuoti e le scuole deserte. Da nessuna parte si sentiva più una risatina e manco un pianto. Genitori, maestri e tutti gli adulti erano rimasti soli sulla terra, senza l'anima di un bambino. Cominciarono quindi a gridare, a chiamare, a correre per le strade, al municipio, a chiedersi null'altro, a piangere, a incavolarsi, a pregare. Ma era tutto inutile, niente di niente. Dal città del capo, davanti alla sede della conferenza, si ammassarono decine di migliaia di uomini e donne disperati. Muti, erano troppo tristi per gridare o protestare. E il silenzio spettrale di quella sala, stracolma di gente, faceva il suo effetto. Gli artiglieri sorvegliavano, sì, il portone, ma avevano girato i loro cannoni. Le canne erano adesso rivolte verso l'edificio, dal momento che anche gli artiglieri hanno dei bambini. Nella grande sala, gli uomini di stato erano riuniti e guardavano perplessi i loro quaderni d'appunti. Anche qui nessuno apriva bocca, pure i loro di bambini e i nipotini erano scomparsi. Eppure, il supergenerale per distaffe si masticava i baffi. Ma dove poteva essere finito il suo Filippo? Il nipote più piccolino, destinato a succedergli perlomeno in qualità di ammiraglio generale o di ammiraglio generale degli ammiragli. Ad un tratto si sentì gracchiare un microfono e poi una voce roca pronunciò queste parole. Attenzione, attenzione. Fra qualche minuto verrà trasmessa dal grattacielo degli animali un'importante dichiarazione. Oscar, l'elefante, parlerà a tutta l'umanità. Il discorso che Oscar tenne alla presenza dei delegati degli animali, indirizzato a tutti gli uomini, fu conciso ed esattamente il seguente. Da questa mattina tutti i vostri bambini sono scomparsi senza lasciare traccia. Questa non è stata una scelta facile per noi. Dal momento che anche noi siamo genitori, vi comprendiamo e vi avremmo volentieri risparmiato questo dolore. Ma non avevamo più alternative. Non noi siamo i colpevoli di ciò che è accaduto, bensì i vostri uomini di Stato. Ringraziate loro. La nostra pazienza è esaurita. Non vogliamo assistere e non assisteremo impotenti ulteriormente al modo in cui i vostri governi si prendono gioco dei vostri bambini. che amiamo è alla rovina del loro futuro che ci sta a cuore con nuovi conflitti, guerre e con la furbizia e l'avarizia. Nella vostra legge c'è un articolo che stabilisce che i genitori non capaci perdano diritto sui propri bambini, ovvero che si possono sottrarre loro i loro figli per affidarli a educatori più adatti. Noi abbiamo fatto appello a quest'articolo e interdetto i vostri governi. Siete incapaci ormai da secoli di onorare questo compito. E adesso è abbastanza. Ci siamo assunti da questa mattina la responsabilità dei vostri bambini e non li avrete indietro finché i vostri governi non sigilleranno un accordo solenne all'unanimità, giurando di dirigere il mondo in modo sensato e leale. Qualora i vostri governanti si rifiutassero, saprete almeno il motivo per cui non rivedrete mai più i vostri bambini. Non ho null'altro da dirvi. La prima e ultima conferenza degli animali ha assolto il suo compito meglio che ha potuto. Questa sera alle sei la conferenza avrà termine. Le proposte che ci giungeranno da città del capo verranno tenute in considerazione solo fino al suddetto termine. Fate ciò che volete. Noi facciamo quello che va fatto. Telegramma a tutto il mondo Stop Tutti i bambini spariti nel vuoto Stop Terzo ed ultimo ultimatum degli animali Stop Conferenza di città del capo disposta ad aprire immediatamente trattative Stop Aereo speciale già in volo per prendere a bordo una delegazione di animali Stop Atterraggio a città del capo previsto al più tardi per le 13 Stop Tutti i genitori Ripeto Tutti i genitori sono pregati di mantenere la calma Stop Cosa succederà? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti